C'è una donna che li ha convinti di essere una vera medium. Non mi imbroglierà. Dacci un segno! Sono sbalordito. Lei è una scaltra imbroglioncella. Woody Allen torna alla commedia e dirige un cast di attori straordinari. Il premio Oscar Colin Firth è Emma Stone. Le mie impressioni mentali sono nebulose. Si tratta di Nembo Cumuli o di Cirri? Si prende gioco di me. Magic in the Moonlight, dal 4 dicembre al cinema. Riscopri i successi di Woody Allen in Blu-ray e DVD su ibs.it